Perfetto, siamo in diretta sulla pagina di informazione cattolica con il professor Gandolfini, che saluto. Buonasera, grazie per l'invito. Sono molto emozionata, professor Gandolfini. Per me è veramente un onore e un onere intervistarla stasera. Sappiamo dei suoi moltissimi impegni, sappiamo delle sue attività, sappiamo peraltro che questo è un periodo in cui è impegnato su più fronti, non soltanto sulla questione proposta di legge Zanna, ma l'abbiamo vista molto impegnato sul fronte della scuola, per esempio, anche sulle lotte alle paritarie. Quindi siamo doppiamente contenti che lei abbia trovato il tempo per dedicare una mezz'oretta a informazione cattolica. Siamo nati da poco, abbiamo solo voglia di fare un po' di informazione provando a rimanere dentro la dottrina sociale della Chiesa, dentro il Magistero, è uno sforzo notevole. Proviamoci insieme su un tema molto caldo. Allora, per quelle due o tre persone che non conoscono Massimo Gandolfini, perché, insomma, presentarla, vabbè, cosa dobbiamo dire? Uno dei massimi, dei maggiori promotori dei Family Day, degli organizzatori, un difensore della famiglia, un difensore dei nostri figli, sotto tutti i punti di vista, in tutti gli ambiti in cui questo oggi rende necessaria la nostra presenza, ma è, sappiamo, dirige il Dipartimento di Neurochirurgia Brescia, giusto professore? Giusto, corretto. Perfetto. Allora, io direi, bando alle ciance, le lascio subito la parola, perché la prima domanda che viene in mente ai profani è, trattandosi di argomento che ha un parolone, omofobia, omotransfobia, la prima domanda che viene al profano è, ma questa omofobia, questa omotransfobia di cui parla questa proposta di legge, che roba è? È qualcosa che è definito a livello medico, è una fobia, ha una definizione giuridica, è definita l'omofobia e l'omotransfobia? Allora, grazie perché questa domanda permette di chiarire, diciamo, il quadro generale del tema. Cominciamo subito col dire che non esiste al mondo una definizione condivisa da tutti del termine omofobia. Il termine omofobia o il termine omotransfobia fa parte del cosiddetto neolinguismo, è una neolingua, è una nuova denominazione che non ha ovviamente un retroterra culturale nel tempo passato, ma anche oggi non è stata definita. Non esiste una definizione di omofobia. Se dovessi mostrare strettamente all'etimologia della parola, fobia vuol dire paura, e in ambito psichiatrico, le fobie sono sostanzialmente la paura di qualcosa. La rupofobia è la paura dello sporco, la claustrofobia è la paura di rimanere al fuso, l'agorafobia è la paura invece di spazzilarmi. In questo caso omofobia, stando all'etimologia greca, vorrebbe dire paura dell'omologo, cioè paura dell'uguale. Dovremmo avere paura dell'uguale. Allora, siccome io e lei siamo due appartenenti alla specie Homo sapiens sapiens, quindi da questo punto di vista siamo uguali, omofobia potrebbe voler dire che io ho paura di lei e che lei ha paura di me. Capisce che è un non senso totale rispetto invece all'utilizzo, come dire, pubblicistico che si fa oggi del termine, che è contraddittorio rispetto all'etimologia della parola, perché vorrebbe dire in questo caso paura della persona che ha un orientamento omofessuale, per cui da quel punto di vista ha un orientamento diverso rispetto all'orientamento mio, ad esempio. Quindi è una contraddizione in termini. Detto questo, in termini invece più strettamente concreti e giuridici, è pericolosissimo che non esista la descrizione della fattispecie di reale, perché uno dei principi fondamentali su cui si basa la legge e su cui si basano i codici è che sia descritto in maniera che ha dettagliato il reato. Facciamo un esempio per le persone che mi stanno ascoltando. Se io commetto una rapina a mano armata, il reato è che se mi presento con un'arma e da un negoziante mi faccio dare la cassa, questa è la fattispecie di reato, si chiama principio di legalità, la fattispecie di reato che connota il reato di rapina a mano armata. Ma nel momento in cui non è descritta la fattispecie di reato, lei capisce che si lascia una interpretazione individuale che si può moltiplicare per migliaia o decine di migliaia di interpretazioni e quindi si lascia in mano al giudice monocratico oltretutto che dovesse essere giudicante una libertà di interpretazione che è pericolosissima per la garanzia del soggetto in questo caso imputato. Lei già nella risposta, ha già risposto a tre domande, perché il dono della sintesi è una gran bella cosa. Grazie. È entrato già nel campo pericoloso del processo penale, perché poi col processo penale non si scherza. Non si scherza perché le pene previste sono molto severe e quindi lasciare nell'incognita la fattispecie di reato, il comportamento, pone anche un altro problema. Chi si deve difendere? Come fa a difendersi da qualcosa che non è definito? L'altro grosso problema è esattamente questo. siccome non è descritta in maniera oggettiva e rigorosa la fattispecie di reato, ma viene lasciata l'interpretazione anche al soggetto che si sente essere stato trattato come vittima, la percezione del reato non è oggettiva, la percezione del reato è di quello che dice che si è sentito infamato o che si è sentito diffamato da un'espressione, da una parola e da un discorso, i famosi H-Tips, i discorsi d'oggi. E quindi è pericolosissimo questo. E ripeto, ancora più pericoloso il fatto che siamo in codice penale. Certo. Codice penale vuol dire che la sanzione è la restrizione della libertà del soggetto che si arriva addirittura a sei anni. Esatto. Adesso, prima di passare alle sanzioni su cui c'è un discorso effettivamente da fare, perché è importante che chi ci ascolta stasera abbia con semplicità chiaro, chiare, quali sono le possibili conseguenze, che sono conseguenze che rigadono su tutti i cittadini, cioè non è una roba per cattolici, non è una cosa che ce la stiamo discutendo io e lei e quattro amici in collegamento, è una cosa che riguarda proprio tutti i cittadini e che incide sulla libertà poi personale. Una cosa che mi veniva in mente mentre leggevo, certo che dal DDL Scalfarotto che ha cominciato un po' a scribacchiare di omofobia nel 2013 in avanti, mi sembra che la proposta di legge Zanna abbia fatto notevoli passi avanti in peggio. L'ha notato anche lei ovviamente questo. Assolutamente vero. È peggiorata sia dal punto di vista della sanzione sia dal punto di vista dell'allargamento di quello che possiamo considerare la fattispecie di reale. Quindi è un passaggio in avanti pericolosissimo. Se poi magari più avanti entreremo anche in alcuni dettagli, ad esempio nel disegno di legge nel tetto unificato che è stato presentato la settimana scorsa alla Commissione Giustizia della Camera da parte di Alessandro Zann sono previsti addirittura dei corsi di educazione contro la discriminazione di genere il che vuol dire che addirittura investiamo non soltanto la società in generale ma il mondo della scuola e il mondo educativo quindi un mondo di una delicatezza enorme. Sì, sul dettaglio adesso di quello che prevede la proposta di legge Zann entreremo ma ripeto perché è importante che si capiscano quali sono le conseguenze anche sul piano delle sanzioni accessorie per esempio la sospensione della patente però ci entriamo piano piano un'altra cosa da mettere in campo nel discorso del quadro generale è la trasversalità politica che accompagna questa proposta di legge perché leggo Zann Scalfarotto Boldrini per Antoni Bartolozzi passiamo dal PD a Italia Viva Movimento 5 Stelle Forza Italia ora dietro questa proposta di legge ci sono dei movimenti che conosciamo bene sono i movimenti LGBT come sono riusciti in questi anni ad avere ad entrare così in profondità e a fare in modo che le proprie istanze fossero percepite addirittura a livelli diversi cioè a livelli non di singolo partito anche se qualche partito magari è più proiettato no? Però anche altri partiti credo che seguono il 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 progetto che c'è da parte dei movimenti LGBT guardi diciamo la 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 strategia mi scusi professore mi dicono di avvicinare l'auricolare io ho il microfono ha il microfono quindi chiedo chiedo se se l'audio va va bene perché la posso avvicinare mi dica se si sente bene prego alzare il volume si sente poco io ce l'ho al massimo ma io anche veramente sono al massimo proviamo proviamo vabbè ce l'ho dalla dalla diretta ci dicono proseguiamo vediamo se dalla diretta ci danno ancora indicazioni sul volume rispondo alla sua domanda si beh è stato potenziato dal 2013 arrivare ad oggi e soprattutto è riuscita questa mentalità a infiltrarsi in numerosi partiti perché in realtà è un vento che sta correndo in tutto il mondo in Europa ma anche fuori dall'Europa c'è una vera e propria mainstreaming possiamo dire c'è una vera e propria imposizione di un pensiero unico sui temi dell'educazione sessuale e sui temi della condotta del comportamento sessuale ed è come dire cavalcando quest'onda anche in Italia numerosi partiti si sono lasciati contaminare da questa da questa idea mi permetto anche di dire un'altra di fare un'altra affermazione è chiaro che al di sotto anche di tutto questo fermo restando che questo disegno di legge è pessimo da ogni punto di vista quindi non da un punto di vista strettamente confessionale e religioso ma da ogni punto di vista quindi anche da un punto di vista laico però è chiaro che questa è un'arma forte possiamo dire è una forte spada in mano a chi vuole combattere contro la cultura cristiana e la cultura cattolica per cui in buona parte una parte dell'anima che porta avanti questo disegno di legge nascosto dietro i reati di discriminazione verso le persone con condotto omosessuale oltretutto falsificando la realtà perché questi reati sono veramente minimali nell'arco dell'anno e viene utilizzata diciamo questa falsità per portare avanti una cultura che è in opposizione in contratto alla cultura cristiano cattolica e potremmo dire più in generale alla cultura giudeo cristiana questo probabilmente ha portato almeno fino a un certo punto a che la battaglia fosse condotta prevalentemente dai movimenti cristiani e cattolici cioè c'è stata questa percezione in alcuni ambienti in tempi anche non sospetti diciamo non adesso ma diverso tempo fa che dietro certi movimenti ci fosse anche un attacco mirato adesso però si è sparato più più in alto perché si finisce per incidere sulla libertà di opinione e sulla libertà di pensiero quindi su libertà costituzionali che stanno alla base di uno stato di diritto sono diversi i temi sui quali se passasse la proposta di legge Zan diventerebbe pressoché impossibile esprimersi in modo libero alcuni sono temi a noi cari dall'educazione gendere delle scuole all'utero in affitto per esempio altra tematica trasversale no e per esempio ai matrimoni gay altro tema che non è poi così pacifico anche a livello di società civile ci sarebbero dei comportamenti banali facciamo qualche esempio cosa si rischierebbe di non potere più dire ah se dovesse passare un disegno di legge di questo genere è un vero e proprio bavaglio che viene messo alla libertà di opinione alla libertà di pensiero e alla libertà di manifestazione ecco perché in questo momento stiamo raccogliendo una grande trasversalità di opposizione a un disegno di legge di questo genere perché al di là del tema omosessualità omosessualismo eccetera il tema sulla quale si gioca la malvagità del disegno di legge è un tema che introduce di fatto la repressione del pensiero e il reato di opinione in contrasto con l'articolo 21 della nostra costituzione articolo che voglio ricordare sappiamo bene ma ricordarlo non fa male articolo che è costato sangue e lacrime ai nostri padri perché le tre grandi dittature del ventesimo secolo il nazismo il fascismo il comunismo erano dittature in cui cardine era esattamente la repressione del libero pensiero e l'introduzione del reato di opinione quindi rieccoci siamo nuovamente in diretta brevemente abbiamo cercato di fare un po' il quadro della situazione partendo anche dal DDL Scalfarotto e mettendo in evidenza il salto di qualità giusto professor Dandolfini cioè si sono perfezionati si sono perfezionati perché negli anni sono anche riusciti con molta abilità ad entrare in diversi schieramenti politici a rendere le istanze parliamo del movimento LGBT appetibili un po' a chiunque mentre parlo mi vengono mi vengono dei flash è diventata un po' una moda perché io con quattro figli comincio a vedere le mie figlie adolescenti che ovviamente hanno amici escono io noto che c'è essere LGBT per orare la causa degli LGBT è diventato per i ragazzini anche qualcosa di di cui andar fieri è come se fosse una battaglia nobile qui c'è un qualcosa proprio di abile perché si è riusciti dal punto di vista culturale a rendere appetibile giusta una battaglia come se fossero delle rivendicazioni che un tempo possiamo immaginare le rivendicazioni sociali il diritto di voto alle donne oggi purtroppo in molti ambienti negli ambienti meno preparati viene percepita come una battaglia di libertà lei anche lei ha questa sensazione che si sia lavorato molto bene a livello culturale da questo punto di vista certamente e vorrei sottolineare due aspetti il primo aspetto è che si è utilizzata l'arma della propaganda falsa che è tipica di tutte le dittature del pensiero la propaganda falsa che parte decenni prima di oggi è stata quella che le persone omosessuali sono delle persone fatte oggetto di discriminazione di violenza di difamazione e quindi sono delle persone discriminate sono delle persone deboli vulnerabili contro le quali la società si è stagliata questo è stato il messaggio falso di propaganda che è stato portato avanti perché ripeto che ci siano singoli fatti è vero e questi vanno assolutamente condannati ma non è vero che ci sia una sorta di programma di discriminazione delle persone per il loro orientamento sessuale dall'altra parte è chiaro che si è introdotto utilizzando questo cavallo di Troia si è introdotto una cultura diffusa che vorrei paragonare a quello che ho vissuto io negli anni del liceo e dell'università io ero all'università negli anni 78 70 73 negli anni in cui chiunque non era marxista non era leninista non era comunista era semplicemente un retrograto era un fascista era uno che era contro il progresso che ce l'aveva col popolo operaio io ricordo i film dei tempi la classe operaia va in paradiso cioè per essere qualcosa di nobile socialmente bisognava essere comunisti ed operari oggi per essere alla pari con una cultura prorompente bisogna essere di tendente diciamo così di affettività di same sex attraction di attrazione e naturalmente di combattere questa battaglia che è contro le discriminazioni delle persone omosessuali per cui tutto oggi si muove così non so se notate quasi ormai non esiste più una fiction in cui non si vedano due uomini o due donne che si baciano assolutamente questo è una forma di inculturazione neanche tanto subliminare per manifestare o un atteggiato per il risultato o no per le campioni le nostre le lacrime la ligge Grazie. 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 Perfetto, io la sento un po' a tratti, però vedo che è ritornato. Vada pure avanti. Sì, perché ci sono problemi di connessione, purtroppo la linea non è costante. Eccoci, mi sembra che si sia ripristinato il collegamento in questo momento. Eccoci, eccoci, eccoci. Che fatica. Che fatica stasera. Guardi, qui ci sono 35 gradi, però le posso assicurare che sto facendo un bagno. Incredibile. Eccoci. Eccoci. Niente, purtroppo la linea continua a saltare. Vedo che la piattaforma prova a ricollegarci di nuovo. So che siamo in diretta, quindi su Facebook dovreste sentirmi. La piattaforma sta ripristinando il collegamento. Attendiamo qualche minuto per vedere se la comunicazione riparte. purtroppo è un collegamento faticoso stasera. Normalmente le dirette Zoom che abbiamo finora fatto sono state dal punto di vista tecnico molto più agevoli. Quindi questa, questa devo dire, ci sta facendo sudare sette camice. Riproviamo a vedere se riparte il collegamento. La vedo. La vedo. Eccoci. Ecco, la vedo. Ma noi siamo ostinati. Siamo sempre qui. Perseveriamo. Perseveriamo. Guardi, io ho fatto qualche diretta Zoom, le posso assicurare che questa sta diventando la più faticosa. Allora, dicevamo, l'aspetto culturale, lei ne ha parlato diffusamente, mi pare che l'aspetto culturale però sia importante. quello a cui si è arrivati, si è giunti, perché la battaglia diventa anche più complessa nel momento in cui sembra che noi ci poniamo in opposizione a qualcuno che invece chiede delle semplici rivendicazioni. Per questo che bisogna anche essere molto chiari nella comunicazione. Bisogna dire innanzitutto come premessa fondamentale che noi siamo assolutamente d'accordo, anche sulla base dell'articolo 3 della nostra Costituzione, che nessun cittadino italiano per nessuna ragione deve essere fatto oggetto di violenza, di dipendio e di offesa e che nessun cittadino italiano deve essere oggetto di discriminazione. Questo lo dice l'articolo 3 della Costituzione. Quando ci sono dei reati contro la persona, reati di violenza fisica, di violenza verbale, di difamazione, esiste già tutto lo strumentario giuridico per sanzionare e per perseguire quel reato. Quindi se una persona omosessuale viene fatta oggetto di violenza, esiste già lo strumentario giuridico per condannare e per reprimere quel reato. Non c'è bisogno di una nuova legge. La nuova legge ha questo invece di pericolosissimo, che introduce una forma di pensiero unico, di dittatura del pensiero e addirittura investe il campo educativo. Perché nella legge, voglio ricordare, è prevista l'istituzione della giornata nazionale contro le discriminazioni omotransfobiche e che vengono previsti dei corsi di educazione nelle scuole di ogni genere grado sulla teoria, sul principio dell'identità di genere. Contro questo aspetto si sono scagliati anche i movimenti femministi. I movimenti femministi tra l'altro si sono scagliati anche rispetto alla impossibilità di dibattere sulla questione dell'utero in affitto. Ci sono state anche giornaliste in questi giorni come la Sargentini, che è stata attaccata duramente proprio perché lei da anni conduce una battaglia contro l'utero in affitto, insieme ad altre associazioni anche di femministe e di sinistra. Quindi c'è un po' un cortocircuito all'interno del sistema però, perché quelli che si sono svegliati si stanno accorgendo che non è neanche giusto dal punto di vista proprio giuridico una tutela speciale per determinate categorie. L'essere umano che viene ingiuriato o che è oggetto di violenza, non importa che sia, che appartenga ad una speciale categoria per ricevere tutela dall'ordinamento giuridico. La violenza è violenza. Esatto. Il tema fondamentale è questo. La violenza va sempre condannata e non ha bisogno che esista una categoria perché in base ad una condotta o di una qualcosa debba essere particolarmente tutelante. E se poi volessimo andare a vedere quali sono oggi le categorie più bullizzate sia a livello sociale e a maggior ragione a livello scolastico, lo dico sempre a tutti, la categoria più bullizzata oggi è quella delle persone obese. Assolutamente. Ecco, per esempio i bambini obesi, i ragazzi obesi, le ragazze obese eccetera. Allora, dovremmo scrivere anche una legge che tutela per, contro l'obesofobia? La legge ideologica è un assurdo totale. Il movimento femminista radicale ha compreso che questa è una legge ideologica perché va contro il semplice buon senso. Non è una questione di difesa del cattolicesimo, è semplicemente una questione di difesa delle libertà democratiche e del buon senso. Se poi scendiamo nel dettaglio alle pene che sono previste, c'è, io dico, da aver paura. Perché noi siamo abituati a pensare sempre che le cose accadono agli altri e invece guardate che accadono anche a noi. Se noi guardiamo le pene, e non soltanto le pene, il carcere, che già di per sé è previsto da una pena minima di un anno e sei mesi a un massimo di sei anni. Cioè stiamo parlando di una pena a base, un anno e sei mesi, fino a un massimo di sei anni, che è tantissimo. Ma accanto al carcere ci sono le pene accessorie. Allora le pene accessorie non sono qualcosa di superficiale, perché incidono sulla capacità e sulla possibilità del cittadino di condurre la propria esistenza. Cioè se ti ritirano la patente, se ti ritirano il passaporto, per alcune categorie di cittadini hai smesso di lavorare? Quindi questo inasprimento delle pene, che è la novità però, professor Gandolfini, cioè questo è il salto di qualità di cui parlavamo prima, no? Dallo scalfarotto alla proposta di legge Zan. Vuole spaventare? Vuole incutere timore? Sì, sì. È una strategia di somministrazione del panico e della paura nei confronti delle persone. in maniera da bloccare sul nascere qualsiasi tentativo di mettersi contro ad una condizione di questo genere. È pericolosissimo. Ecco perché, diciamo, è un'imposizione violenta, violenta, di una vera e propria dittatura del pensiero. Addirittura, lei parlava giustamente di questo appena accessorio, addirittura è prevista la rieducazione. Sì, approfondiamolo questo, perché è prevista in realtà, è una sanzione sostitutiva, cioè alternativa al carcere, e per cui il condannato potrebbe essere destinato ai lavori socialmente utili presso le associazioni LGBT, cioè perché si converta, si passi questo termine. Cioè è un'opera di conversione. Guardi che, allora, diciamolo chiaramente, chiunque di noi, per non fare un giorno di carcere, farebbe quasi qualsiasi cosa, perché noi abbiamo una narrazione anche un po' a volte, attenzione, cioè il carcere è carcere. Chi ci entra, soprattutto per reati di questo tipo, che potrebbero poi, tra l'altro, essere commessi da chiunque di noi, quindi non da persone avvezze, diciamo, a violare la legge, abituate, non è il criminale incallito, il recidivo, ok? Chi incappa in questa legge è il cittadino comune, l'incensurato, uno che mai nella vita avrebbe pensato di finire in carcere. Ecco, come possibilità alternativa a quella di essere rieducato e di fare volontariato lavoro socialmente utile, questa è una roba allucinante comunque, questa io la trovo gravissima. E ancora un altro trasferio che si aggiunge all'affermazione concreta che abbiamo, che stiamo facendo questa sera, che si tratta di una imposizione, di una dittatura del pensiero unico. La rieducazione culturale, è una cosa terribile, è una roba da stasi... Ma sì, sì, ci porta indietro di, veramente di un secolo, eh. E dopo aver fatto questa carrellata, aver cercato di divulgare ulteriormente questi concetti e questi passaggi che non sono per nulla semplici, abbiamo anche fatto il punto sull'intervento della CEI. Adesso tocca a noi. Quali sono le iniziative in programma? E poi ci dica, giusto, due paroline sul perché purtroppo è saltata invece la manifestazione, quella che era prevista a Roma. A lei, professore. Partiamo dall'ultimo che è la più semplice dei chiami. Abbiamo dovuto rinunciare alla manifestazione di Roma dell'indici giuglio perché le norme di distanziamento sociale rendevano la piazza del popolo addicchabile da non più di 2.000, in meno 1.700 persone. Il risultato è che noi avevamo circa già 30.000 prenotazioni e quindi evidentemente abbiamo dovuto bloccare il pullman e organizzazione della zona in parte d'Italia per evitare che le persone facevano il sacrificio, ci rimettevano soldi e tempo, arrivavano a Roma e poi dopo le forze dell'ordine non le facevano stare in piazza perché sarebbe stata una cosa decisamente vergognosa e difficile. Quindi abbiamo annullato quella ma non l'abbiamo annullata definitivamente. Di fatto l'abbiamo rimandata perché stiamo pensando nei primi 10-15 giorni di settembre, il primo o secondo sabato di settembre, di poter fare appunto una grande manifestazione in piazza a Roma. Speriamo con regole di distanziamento anche meno rigide di quella tua. Però non ce ne abbiamo con le mani in mano. Ci sono l'iniziativa tra le cosiddette 100 piazze per cui saranno molto importanti che nelle varie località italiane i cittadini facciano sentire la loro voce e la loro contrarietà. Il fatto di informare la pubblica opinione è anche un modo di formarla ad un'educazione alla cultura della democrazia e di far sentire naturalmente ai partiti che chi cavalca questo disegno di legge non troverà il consenso da parte di numerosi cittadini e indipendentemente dal loro credo cattolico o comunque credo religioso sconfessionale. Perché rispetto qui la posta in gioco è la libertà democratica di pensiero e di opinione. Le tre piazze si riuniscono grossomodo nel periodo che va dall'11 di sabato 11 luglio la maggior parte ma ce ne saranno anche alcune 14 e altre il 16 luglio anzi voglio anche dare altre due notizie importanti il 14 luglio a Roma ci sarà un convegno dedicato al chiuso questo in una conferenza dedicato proprio al tema del contratto a questo disegno di legge sani e il giorno 16 che è un giovedì giovedì 16 davanti a Montefittorio antiazze a Montefittorio ci sarà un flash mob a cui saranno presenti anche i numerosi parlamentari. Il fatto che lei abbia nominato i partiti mi dà proprio l'occasione per un'altra domanda ci sono tante sfide c'è il PDL ZAN che è imminente la cui discussione è imminente ma ci sono tante sfide sul piano etico che riguardano non solo i cattolici lo sappiamo anche la questione dell'utero in affitto rimane aperta perché è di fatto sdoganato si va all'estero poi si torna in Italia e quindi il divieto italiano di fatto viene aggirato l'ideologia gender che con questo PDL ZAN avrebbe un'ulteriore possibilità di essere praticata all'interno delle scuole ora la mia domanda è il mondo cattolico è frammentato tante associazioni tanti movimenti ora di fronte a battaglie così complesse c'è la possibilità secondo lei di comporre anche le varie anime per dare maggiore forza al pensiero cattolico o va bene così? questa è la prima domanda e la seconda domanda dal punto di vista della strategia politica cosa ci dobbiamo ancora aspettare? il fatto di portare dei cattolici all'interno dei partiti o pensare ad una strategia più ampia ci dia delle indicazioni su questo perché le battaglie sono effettivamente molteplici e forse noi a volte siamo un po' ci perdiamo un po' no? troppe sigle cosa ne pensa? allora la sua prima domanda rispondo dicendo che il TBL ZAN è una buona occasione per ricompattare il mondo cattolico perché ripeto qui è in gioco la libertà democratica e quindi il mondo cattolico su questo tema è sensibilissimo ed è l'occasione buona per rimetterci tutti quanti insieme e stiamo cercando di lavorare in questo tema alla seconda domanda rispondo come faccio spesso dobbiamo tenere presente una contingenza cioè la situazione del momento attuale e dobbiamo tenere presente un discorso in prospettiva per quanto riguarda la contingenza attuale pensare di fare oggi un partito che è fondato su questi grandi temi valoriali antropologici la difesa della vita la difesa della famiglia come società naturale la responsabilità educativa dei genitori in questo momento non è partibile perché mancano le premesse e perché questo ha il significato di una strategia di lungo corso che richiede lungo tempo per cui ci mettiamo in quella prospettiva e vediamo di momento in momento come poterla costruire allora è importante avere chiara la meta in maniera da stabilire poi i passi che ci permettono di arrivare a quella meta ma per quanto riguarda oggi la strategia è quella di poter influenzare contaminare usiamo diciamo anche un termine evangelico possiamo fermentare i partiti che oggi sono presenti sia con la presenza di singole persone deputate senatori che nascono dai movimenti pro-life pro-pen sia anche con l'opinione pubblica queste manifestazioni di piazza sono come dire i partiti ragazzi guardate che se legalizzate la canna se legalizzate il suo non appitto se non fate nulla per cercare di bloccare questa strategia di allargamento dell'aborto fino addirittura all'aborto Pfizer 3 in canna guardate che i partiti che sostengono queste infelanze non riceveranno il nostro voto questo dato che stiamo facendo dal 2016 ad oggi mi permetto di dire che qualche risultato decisamente positivo l'abbiamo e quindi oggi nella contingenza temporale in questi nostri tempi questa credo che sia la strategia non è vincente ma è una buona strategia e speriamo che ripeto con una visione invece più introspettica possa portarsi anche ad avere magari una nuova forza di centro che tutto questo lo possa non solo cogliere ma anche in vita ha notato una maggiore convergenza tra le varie anime che compongono il mondo cattolico in questo ultimo in occasione di questo ultimo di questa battaglia imminente quella del Pdl Zand o è solo una mia sensazione lei ha percepito una maggiore coesione tra le diverse anime direi proprio di sì diciamo che le occasioni recenti che hanno permesso una maggiore coesione un maggiore avvicinamento tra le varie anime sono almeno tre una è sicuramente il Pdl Zand un'altra è stata la battaglia a favore delle scuole paritarie la scuole paritarie la battaglia sulle scuole paritarie in cui il mondo pro-life pro-family il mondo cattolico ha potuto compattarsi e ha portato a casa un buon risultato non è la vittoria finale però se si è un po' il risultato e il terzo è tutta la lotta che stiamo facendo per il sostegno alle famiglie nei vari decreti di rilancio eccetera per fare ripartire l'economia siamo riusciti a mettere anche in un governo che era partito con una insensibilità totale nei fronti della famiglia rimettere al centro il tema della famiglia il famigliezza il consenso familiare la sede universale c'è una serie di misure anche economiche che rimettano al centro la famiglia come inferno della società su questi tre momenti abbiamo trovato una notevole convergenza e ci auguriamo fermamente noi le famiglie ci auguriamo fermamente di poter andare avanti su questa strada quindi le faccio l'osservazione cattiva quindi quando leggiamo qualche brutto articolo su avvenire che sembra a volte sposare certe posizioni cosa dobbiamo fare? spallucce come fa mia figlia quando mi fa così facciamo spallucce e andiamo avanti perché c'è quello ci sono anche delle facoltà teologiche dove si promuovono idee apertamente a favore del mondo LGBT fuori dalla mia battuta cioè c'è una certa parte di chiesa di mondo diciamo che ruota intorno alla chiesa di formatori che vanno in direzione opposta rispetto a quello che poi è il magistero stesso ecco quando noi ci troviamo di fronte a queste realtà concretamente noi laici non so cosa possiamo fare ma forse le gerarchie ecclesiastici che dovrebbero muoversi in altro modo per aggiustare un po' il tiro o va bene così cioè ci dobbiamo tenere questa roba qua no quello che noi dobbiamo fare innanzitutto il nostro paro non è l'articolista di avvenire signor tale o signor talalto quella è un'opinione personale dell'articolista o della relazione di quello che sia il nostro paro deve essere il magistero della chiesa il magistero della chiesa su questi temi è chiarissimo perché c'è il catechismo della chiesa cattolica c'è quel bellissimo documento della congregazione per la fede del 1986 per cui il paro ce l'abbiamo chiaro ed è questa la meta è da questo che noi dobbiamo essere eliminati detto questo ripeto c'è sempre anche la contingenza del momento diciamo che per chi ha un po' a conoscenza della storia della chiesa non c'è niente diciamo di nuovo sotto il sole da sempre nella chiesa è stato presente un certo animo e un animo opposto per cui noi andiamo avanti su quella strada la strada certa è quella del magistero il magistero quello lì non lo cambia nessun articolista non lo cambia neanche la posizione del teologo o del teologo e per il momento dobbiamo dimostrarsi un popolo unito sotto il magistero del papa e dei vescovi che è il magistero ordinario della chiesa perfetto io allora non voglio approfittare ulteriormente né della sua pazienza né della connessione che però adesso va bene e quindi siccome ha anche concluso con questa ventata veramente di dico di speranza che ci sia una ricomposizione per un marciare meglio insieme ecco io chiuderei qui perché ci ha riempito il cuore queste su ultime parole ci volevano insomma dai ci volevano non è un political correct no no ma guardi io poco fa gli ho detto mentre eravamo in privato che parlare con lei lei è esattamente com'è nel senso non c'è differenza tra come lo si vede parlare al microfono al family day e di persona per cui la la spontaneità e la sincerità sono veramente palpabili quindi io intanto la ringrazio veramente a nome della redazione di informazione cattolica di Matteo Orlando e tutti gli amici che stanno lavorando a questo progetto ringrazio gli amici che hanno avuto la pazienza di ascoltarci mi dispiace se le ho fatto fare le 21 e 30 la sua cena lei ce n'era stasera io mi trovo a noto e ce n'iamo normalmente alle 9 e 30 9 e 9 e 30 ma so che in Lombardia non funziona proprio così perché è perché ho il marito di Varese quindi e quindi io adesso la lascio alla sua cena ringrazio veramente ancora gli amici spero di poterla di sentire per tenerci aggiornati sul punto professore Gandolfini e magari anche su altri temi mi ritenga a vostra disposizione e rinnovo il mio grazie per questo invito per questa bella sera grazie grazie veramente un saluto a tutti e alla prossima alla prossima intervista buonasera da tutti buonasera professore grazie di cuore grazie